Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e siamo qui tornati ragazzi con l'analisi dei grafici. Mancava da tanto tempo, prima analisi dei grafici sul nuovo canale, per chi non sapesse in che cosa consiste l'analisi dei grafici, non è altro che andare a vedere l'avanzamento settimana per settimana o adesso che siamo in situazioni comunque abbastanza statiche, una volta ogni 2-3 settimane, di come avanza il mercato in generale, concentrandoci di più sulle criptovalute e in generale in bear market su bitcoin, perché alla fine è l'unica che vale la pena seguire. Quindi di nuovo piano piano torniamo a ingranare con l'analisi, come sempre ragazzi prima di iniziare con il video vi chiedo di lasciare like, iscrivervi al canale, seguirmi su tutti i miei social network e attivare la campanellina per non perdervi nessun video. Andiamo subito con il video che è da un po' che non vediamo nessun grafico. Voglio partire con il grafico giornaliero di bitcoin ragazzi, bitcoin riprendiamo un attimo il principio generale che dal vecchio canale settimana in settimana parlavamo, adesso bisogna un po' ricominciare tutto il concetto. Stiamo vedendo praticamente bear market da novembre 2021, ma questo ormai lo si sapeva, è quasi un anno ragazzi che siamo in bear market, ma la cosa che tra virgolette si fa notare è questa lateralizzazione incredibile su bitcoin che ci portiamo avanti da 123 giorni ragazzi, quindi praticamente da giugno, siamo a ottobre, siamo in questo box, fermi completamente qui, non si con qualche sprazzo di positività, ma poi torniamo giù, comunque abbiamo supporti e resistenze, che abbiamo i 20.000 che diventano supporto, poi diventano resistenze, una roba incredibile, quindi ci fa capire quanto i 20.000 sono stati importanti, guardate qua, 1, 2, 3, perché tutta questa zona qui è stato un elettrocardiogramma, qui, qui, comunque ragazzi 20.000 sono diventati fondamentali. Bitcoin che nella sua negatività ha avuto un qualcosa di positivo, e adesso vi spiego il motivo. Perché? Perché noi vediamo che da giugno praticamente ad adesso siamo in questo livello qua, cioè fine, non ci stiamo smuovendo minimamente. Chi mi seguiva già dal vecchio canale, e comunque chi è già in questo mondo, sa in questi mesi qua, parliamo di questa zona qui, che correlazione ci sia stata tra l'SP500 e Bitcoin appunto. Quindi sa benissimo la correlazione che c'è stata, che quando l'SP500 saliva, Bitcoin saliva, quando scendeva, scendeva. Quindi erano praticamente dei grafici identici. Questa correlazione, adesso tra virgolette, sta andando un po' a scemare, perché guardate bene questo grafico da giugno a oggi, e guardate l'SP500 da giugno a oggi. L'SP500 da giugno a oggi ha fatto praticamente tutto il contrario di ciò che ha fatto praticamente Bitcoin. Che cosa è successo? Abbiamo raggiunto da giugno un livello importantissimo, che è questo, che è stato un minimo. Abbiamo fatto di nuovo tutto il pump, eccetera, eccetera. Pensavamo di poter ricreare qua una risalita, nel senso di fare un qualcosa del genere, fermarci e poi risalire e fare un massimo più alto di quello precedente. Cosa che non è accaduta. Era molto difficile, tra virgolette, rifare un minimo, perché comunque ragazzi eravamo saliti di tantissimo, del 18% in un mese, in due mesi praticamente, e abbiamo riperso tutto quanto, quindi un meno 20% nel giro di altri due mesi. Il problema qual è stato? Che abbiamo ancora di più accentuato un downtrend nel lungo termine, infatti vedete qua, uno, due, tre, quattro, vedete che è proprio un canale discendente questa roba qui, no? Quindi il problema non è arrivato tanto lì, ma è arrivato qua, ai primi giorni di ottobre, quando abbiamo fatto un minimo più basso del minimo precedente. Quindi abbiamo fatto a ottobre un minimo più basso di quello di giugno. Oggi, al momento, è stata una giornata particolare, perché come vedete io sto registrando il 13 ottobre, sono le 18.28, questo video lo vedrete venerdì. Oggi, il 13 ottobre, c'è stata la conferenza della Fed per quanto riguarda l'inflazione. L'inflazione è 8.2%, le aspettative erano 8.1%, quindi, come è successo già il mese scorso, l'inflazione si è scesa, ma non di quanto ci aspettavamo tutti quanti. Quindi, quel successo? Nel brevissimo termine è successo il putiferio, perché vi faccio vedere il grafico orario di BTC, ci mettiamo le mani nei capelli. Questi dati, metto un grafico pulito, sono usciti questi dati alle 2.30, vi metto anche il grafico a 5 minuti, se volete vedere, guardate qua, alle 2.30 sono usciti i dati, quindi vedete qui, alle 14.30 spaccate, un candelone rosso da meno 2,50%, e poi, con l'apertura alle 3.30 del mercato, comunque, questo è stato quanto, quindi, stamattina eravamo qui, adesso siamo di nuovo qui, è successo questo nel mezzo, ma ci siamo praticamente già rimangiati tutto, non c'è nessun problema, S&P 500, che comunque, oggi, grandissima performance, grandissima, grandissima performance, da 3.004 siamo ritornati a livello 3.006, quindi ai vecchi minimi, guardate qua, oggi, che pump incredibile che ha fatto, comunque, è vero, l'inflazione, ragazzi, è scesa, quindi è un qualcosa di positivo, e non positivo al 100%, ma comunque positivo, e questo è stato, un po', la situazione di oggi, infatti, se vediamo l'SP nel grafico giornaliero, come facevo vedere prima, siamo di nuovo qui, dove c'è la linea gialla, c'era il minimo, noi al momento siamo, 13, 14 punti sotto la linea, quindi, davvero, siamo lì, pochissimo, bitcoin, a cui voglio dare un merito, incredibile, perché appunto, nonostante, tutta la situazione, che si sta creando, comunque, da giugno a oggi, bitcoin, è rimasto qui, è rimasto qui, non ha cambiato niente, non è dampato, eccetera, eccetera, una cosa soltanto, che potrebbe, e dico potrebbe, far crollare, di nuovo, BTC, potrebbe essere, un altro dump, del mercato tradizionale, dump, importante, vorrebbe dire, scendere, di un 15, barra 20%, sull'SP500, quindi andare, magari a zona 3000, allora, lì, potremmo vedere, su bitcoin, i fantomatici, 14k, 13k, che, si parlano, da mesi, mesi e mesi, di queste, di questi livelli, diamo i meriti, a bitcoin, che nonostante, questi dump, su dump, su dump, è qui, che continua a minare, praticamente, non mi sento, di vedere, altre criptovalute, perché comunque, non è proprio il momento, di vedere, solana, che ogni 3x2, viene hackerata, bnb, anche abbiamo avuto, un crollo, qualche, qualche giorno fa, perché è stata creata, la binance smart chain, quindi ragazzi, l'unica, su cui vale parlare, in questi momenti, è bitcoin, alla fine, ci fanno capire, che la queen, delle cripto, è solo una, ovvero, bitcoin, e basta, cioè, è stata una puntata, reintroduttiva, non abbiamo visto, niente di tecnico, che abbiamo solo fatto, il punto della situazione, dopo all'incirca, un mese, di mancanze, in un mese, che appunto, non è cambiato, assolutamente, niente, siamo agli stessi, valori, di un mese fa, però, è cambiata, la situazione, un po', sul mercato, tradizionale, quindi, adesso, riprenderemo, a fare più frequentemente, questa tipologia, di video, siamo arrivati alla fine, di questo video, se questo video ti è piaciuto, lascia like, iscriviti al canale, attiva la campanellina, e seguimi su tutti, i miei social network, ragazzi, datemi supporto, scrivetemi nei commenti, che cosa ne pensate, di bitcoin, secondo voi, dove potrà arrivare, come ci muoveremo in futuro, se il video ti è piaciuto, lascia like, ci vediamo prossimamente, con un nuovo video, ciao ragazzi,